Buongiorno a tutti ragazzi, sono sempre io, Alcatraz321, oggi farò un piccolo piccolissimo video, vi farò vedere, intanto, come fare i fumi giganti, sono questi, lo farò vedere, poi vi farò vedere anche farlo in survival, sempre in questo video, e poi vi farò vedere come andare nello spazio del minecraft, lo ci vuole, un mondo in creativo, e, e pochi secondi, guardate, spacchiamo, può essere che ci si trovano delle caverne, ma non ne sto trovando, fortunatamente, e poi si trova la, 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 poi si scende, prima di arrivare la bedrock, poi, ci saranno spazi tutto nero, guardate, ecco, la bedrock, visto? sullo spazio di minecraft poi volevo far vedere appunto come fare i funghi giganti questi buffoni sono incredibili ma ci proverò salino, cascare quanto ho scavato? allora ecco ve lo farò vedere subito allora, allora mi serve quindi questi funghi ce l'ho mi serve la pasta d'osso io gli ossi così vi faccio anche vedere come si fa allora andare all'inventario aspettare ok andare all'inventario e vi spuntere a buon meal ecco allora guardate scusate allora ora ora sono in un'isola sperduta un mondo proprio di merda sono in un'isola sperduta allora guardate io pianto il fungo aspettate non deve essere troppo uscita ad altre piante tipo ah ok guardate ecco un fungo gigante quanti usano queste tecniche del fungo gigante per forse una casa perché guardate ho messo la bed quindi non c'è tanto per qui c'è un maialino un maialozzo quindi scala scala e questo può fare un letto ora però farò farlo in creative in creative scusate in survival ora vi farò vedere come diciamo barricare questa casetta questo rifugio mettete le iron bar in survival ne trovate due in ogni villaggio come si chiamano a modo di mente in ogni villaggio NPC trovate due iron bar perché c'è sempre un posticino con della lava creep affrontiamolo no scoppiare no no bam bam vabbè calmi allora guardate ok guardate vediamo che è molto alto facciamo a più piani piani come li vorrei chiamare vabbè anche così basta anche solo di due piani prendo uno schifo lo so aspetta allora ragazzi sono tornato ecco qua mettete una porta anche se non sta benissimo di lato non si può entrare si apre si chiude ecco c'è il vostro bellissimo rifugio dove dormire e quello odio perché non c'è mai niente di solito gli metto un pezzo di legno ora gli metto la bedrock perché non ce l'ho in legno perché io una volta sono salito ho girato sono cascato e mi ha ucciso un creeper eeeh ucciso mi ha preso un creeper in creative non l'ho ancora provato in survival infatti ho la barrico nuovamente così ok allora arriviamo alla creative proviamoci funghetto cerchiamo un posto sicuro dove piantarlo aia ho il jingle per il command faccio fly non lo sapesse per scendere si fa così premio fly aia vabbè poi due uuuh funziona non lo sapevo che funzionava vabbè scusate per oggi è tutto dal vostro al cardenazzo 621 aspettate che è plano in isoletta sferduta corriamo in aria bello vi faccio correre in aria ta 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 va bene ragazzi sopra volando sopra l'isoletta sperduta volando sopra una diretta sperduta con il tramonto ragazzi ciao a tutti